Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di quattro amici di vecchia data che si trovano coinvolti in una vincente e complicata vicenda. Questa storia, che si rivelerà essere stata pianificata fin dall'inizio, affronta temi come l'amore, la violenza, i rimpianti, ma anche il riscatto e la tenacia e spinge a riflettere sul potere del riscatto personale, sulla forza interiore necessaria per affrontare le avversità e sulla ricerca della giustizia. La trama del libro dell'Ila di Luisa Diamila Colazzilli, edito da Rossini è la seguente. Liana, Robert, James e Paul, quattro amici di vecchia data si ritrovano coinvolti in una vincente e ingarbugliata vicenda, che si rivelerà essere stata pianificata fin dall'inizio in tutte le sue amare sfaccettature. Una storia di amore, violenza e rimpianti, ma anche di riscatto e tenacia, i protagonisti trasformeranno quello che doveva essere un piano di vendetta e distruzione, in un'occasione per rialzarsi, combattere e ottenere giustizia. Citazione dal libro «Ci si batte sempre contro una causa che rischia di schiacciarci, di annientarci, di ucciderci». Robert si chiese, mentre la sua giacca si bagnava delle lacrime dell'amico, cosa significasse vivere senza la paura costante di essere calpestati dal gigante del terrore. Ma forse è proprio questa lotta così estenuante che manda avanti il mondo. In fin dei conti la paura è il riflesso tremante e sfocato della speranza. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.